di Metaponto dove da tempo c'è preoccupazione di cittadini e ambientalisti per le condizioni di un canale di bonifica. L'inviato Umberto Avallone. L'acqua come evidente nelle immagini è torbida, il cattivo odore non documentabile visivamente nel racconto del cronista insieme a una miriade di insetti soprattutto zanzare e quanto accade in un canale di bonifica nei pressi del borgo di Metaponto da circa un anno con disagi da parte dei residenti. Si sente la puzza la sera, una puzza insopportabile. A respirare questa puzza qui mi sento male tutti i giorni, tutti i giorni. In molti giorni è insopportabile, specie la sera quando c'è troppa umidità. Se non piove c'è tutta quell'acqua, da dove viene? Acqua sporca, blu, è blu l'acqua, non è acqua così quando piove, che bella limpida. Ma oltre al cattivo odore a preoccupare sono i risultati delle analisi commissionate o un laboratorio privato da parte dell'associazione ambientalista Cova Contro. Hanno rilevato dei tenori di batteri fecali 20 volte la soglia di legge per gli scarichi fognari in acque superficiali ed è ovvio che manca la prevenzione e il controllo perché in questi contesti, soprattutto anche alla luce della pandemia, gli aerosol fognari sono da tenere sotto stretta osservazione. Necessari interventi di monitoraggio urgenti e capillari. Bisogna fare un censimento di tutti gli scarichi che manca e poi soprattutto fare un piano di monitoraggio ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali, artificiali. Quindi tutta la rete di canali sono corpi idrici importanti perché poi portano acque contaminate da fogne e pesticidi sulle spiagge e bandiera blu. Se vogliamo fare turismo di qualità bisogna fare vera prevenzione ambientale. Sulla questione dei rischi di inquinamento sul territorio lucano di cui ci siamo occupati anche nel Tg di oggi alle 14 c'è la replica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata all'associazione ambientalista Cova Contro. Sentiamo con quali argomentazioni con Rino Cardone. La tesi avanzata dall'associazione Cova Contro di controlli da essa effettuati su tutto il territorio regionale con sistemi satellitari, prelievi di campioni d'acqua e analisi di colonne d'aria per accertare eventuali inquinamenti non soddisfa l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Noi stiamo parlando di quello di una sedicente organizzazione ambientalista non riconosciuta dal Ministero che compie un'analisi in nessun tratto conforme alla normativa vigente. I dati sono stati certificati in alcuni casi da enti di ricerca come l'Istituto Superiore Sanità nel caso del Pertusillo e in più gli altri dati come per esempio quelli sulla qualità dell'area di Vigiano che per alcuni parametri è paragonabile a quella di Pechino e di Nuova Deli sono studi condotti con altre ONG come Source e con altre associazioni come Recommon. Le analisi potrebbero essere state fatte da istituti certificati. Il campionamento è una parte sostanziale dell'analisi. Il modo in cui io prelevo l'acqua inficia o rende valido l'analisi che successivamente viene effettuata. È evidente che se ARPAB come da legge compie quei controlli sugli scarichi con dei chimici, con dei periti chimici è evidente che rispetta la normativa. La sua reazione evidentemente è molto dura ma bisogna riconoscere comunque i buoni propositi di un'associazione ambientalista che vuole essere dalla parte dei cittadini. Noi dialoghiamo abitualmente con le organizzazioni ambientaliste fra quelle riconosciute ovviamente come tali dal Ministero dell'Ambiente. Ovviamente questo dialogo non può superare i ruoli. Il monitoraggio è una competenza di un ente pubblico e deve svolgerlo con le regole dell'ente pubblico. Noi abbiamo appena inaugurato il centro di monitoraggio ambientale. Oggi qualsiasi cittadino dal proprio smartphone può vedere le analisi che l'ARPAB compie e con la spiegazione della modalità di analisi. La collaborazione con le associazioni, con i comitati, con i cittadini, con i sindaci con tutti è una collaborazione che deve svolgersi ma deve svolgersi nel rispetto dei ruoli e delle funzioni.